Argento e bronzo, queste sono le medaglie che vinto agli europei di Canoa nella Repubblica Seca, qual è quella più bella? Il bronzo, so che vi sareste aspettati l'argento però io dico il bronzo perché è stata la prima che ho vinto quindi la più importante e poi l'argento dopo i primi due chilometri ho visto che era fattibile la medaglia perché eravamo rimaste solo noi tre quindi diciamo un po' me l'aspettavo Irene sei diventata non solo l'italiana più premiata agli europei in quest'ultima edizione ma credo anche l'atleta siracusana dell'anno quanto a qualità e quantità di titoli portati a casa Io lo spero però siamo ancora inizio stagione quindi non si sa cosa verrà dopo per il momento sono contenta soprattutto di aver fatto conoscere a tante persone questo sport considerato minore e poi vedremo durante il corso dell'anno cosa succederà Beh a proposito di cose che devono succedere dopo adesso ci sono i mondiali? Sì ci sono non proprio i mondiali ma la Coppa del Mondo che è una manifestazione che viene svolta in tre settimane ogni settimana, ogni weekend di ogni settimana ci sarà una prova e noi partecipiamo alla seconda che si terrà a Duisburg in Germania e io sarò l'unica donna a rappresentare l'Italia e gareggerò sempre in K1 500, 1000 e 5000 quindi questo è il secondo appuntamento dell'anno Domanda terribile, con quali obiettivi si parte? Gli obiettivi sono sempre fare meglio di quello che ho fatto agli europei ma non parlo di medaglie, parlo di meglio a livello individuale quindi a livello di gestione di gara, del percorso, a livello di tempi, soprattutto fare meglio Irene sono settimane che si sprecano, paragoni forse anche pesanti, Iosefa Idem, la nuova Idem, l'obiettivo Olimpiadi Non piacciono tanto questi paragoni perché io Iosefa la stimo molto, è la mia atleta modello, un modello di vita e anche sportivo però essere paragonata a lei è un paragone pesante perché sicuramente non riuscirò mai a vincere quanto ha vinto lei me lo auguro ma la mia carriera sarebbe dovuta cominciare molto tempo fa e quindi mi auguro di poter arrivare ai suoi livelli ma sicuramente mai come lei Però da Siracusa, dall'Anapo, dall'Aciane si può comunque pensare a Rio, le Olimpiadi? Si pensa a Rio e se non è Rio sarà Tokyo, mi auguro almeno prima o poi di partecipare anche perché per noi la selezione è difficile, si qualificano soltanto le prime sei nazioni del mondo a Milano quest'anno i mondiali e poi al ripescaggio le prime due nazioni europee quindi è proprio difficile, non basta essere i più forti in Italia e rappresentare l'Italia all'estero basta proprio, cioè è necessario vincere all'estero, ecco non so se mi spiego, difficilissimo Ti tocca crescere in maniera esplosiva sui 500 perché quella è la distanza che fa la differenza Sì, stiamo lavorando sui 500 perché quella lì è la distanza che voglio fare e dove c'è di più da lavorare Sì, stiamo lavorando sui 500 perché voglio fare e dove c'è di più da lavorare